Buongiorno, mi chiamo Gian Grazio Visconti, ho una galleria a Milano e qui a Verona abbiamo portato una serie di fotografie di Marco Schifano che è un giovane artista 28enne che lavora sulla fotografia in modo rinascimentale. Marco Schifano è un giovane artista romano che ho conosciuto un anno e mezzo fa con il quale abbiamo messo in piedi questa serie di lavori che presentiamo sia a Milano e una parte qui a Verona. Mi piace pensare a Marco come uno dei giovani promettenti, il cognome indica un po' la sua provenienza, è figlio di Mario e quindi ha sempre avuto comunque del bello intorno a sé e io credo di riconoscere questo suo grande vantaggio, questo suo aver vissuto con suo padre e con le opere che il padre produceva, lo rivedo nei piccoli dettagli dei suoi. Ecco perché abbiamo fatto una mostra di un po' la sua famiglia. Grazie. Grazie.